Ora andiamo dai piccolini, vero Jennifer? Qua c'è Camillino, Arfi, Horus, Ciprietta, Nettigri, Mafaldina e Forest. Vediamo, vediamo che andiamo. Io l'ho messo tu? Ah, ero stavo venendo io. Ho sistemato le cose che avevo lasciato giù, sì. Ciao Tietini, ahia, la botta nell'angolo ho menato, ahia, 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 che botta che ho menato. Bravo, così stanno freschi questi pulcini, questi pulcini dorati. Tiago, vieni qua, fatti vedere Tiago, Tiago. Tic, 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 tic. Ora facciamo poi qualche foto, vediamo se ci riusciamo. Eh? Un po' brutta la luce, così. Ecco. Eh? Quanti giochini. Io devo fare mangiare a Cettina. Tiago, vieni qua. Tiago. Ti senti, Daniele. Sì. Tiago. Tiago. Ti senti. Eh, belli freschi qui, vero? Vi ha chiuso la persiana, papino? Così stai freschi, freschi, vero? Eh? Così stai freschi, vero? Vi ha chiuso la maker. Ci senti, ben un pick e różni. Tigre il choice? Così?